Il San Raffaele e Sulmona, la migliore struttura sanitaria della regione Abruzzo, lo dicono i dati diffusi dall'Ufficio Promozione della Qualità del Sistema Sanitario Regionale, del Dipartimento Salute e Welfare, Servizio Ispettivo e Controllo Qualità. In una classifica, il cui punteggio medio è di 7,1 e il minimo 5,7, la struttura abruzzese ha ottenuto una migliore performance con un punteggio complessivo di 8,4. Quattro alle aree di indagine, processi assistenziali e organizzativi orientati al rispetto e alla specificità della persona, accessibilità fisica, vivibilità e comfort nei luoghi di cura, accesso alle informazioni, semplificazione e trasparenza, cura della relazione con il paziente cittadino. In tutte queste aree, San Raffaele e Sulmona ha ottenuto un'alta valutazione, ulteriore conferma dell'eccellenza delle cure presso le strutture San Raffaele. L'indagine sarà effettuata su un totale di 26 strutture di ricovero, di cui 16 presidi ospedali pubblici, 10 istituti di ricovero privati accreditati. Si tratta del progetto Agenas, la valutazione della qualità delle strutture ospedaliere secondo la prospettiva del cittadino, relazione finale e piani di miglioramento, anno di rilevazione 2017. La Regione Abruzzo ha infatti contribuito alla realizzazione del progetto attraverso la partecipazione all'indagine nazionale sulla qualità delle strutture ospedaliere del territorio regionale. Un'ulteriore tassello che ci colloca in una posizione ancora più strategica nel tessuro sanitario regionale, rendendoci un vero e proprio punto di riferimento per chi, anche fuori dai confini territoriali, si rivolge alla nostra struttura per ricevere supporto e cure, afferma il direttore operativo Pierluigi Marinelli. In San Raffaele e Sulmona è specializzato in riabilitazione neuromotoria ed è in grado di offrire assistenza a soggetti di ogni età. Nelle seguenti specialità, unità spinale, riabilitazione neurologica, riabilitazione ortopedica, riabilitazione ex articolo 26, prestazioni ambulatoriali.